Archiviata la settimana di sosta, l'AMNBC Servizi Arezzo si appresta a tornare in campo per la seconda fase del campionato di Serie B. La SBA, grazie all'ottavo posto conquistato nella prima parte di stagione, si è qualificata in play in silver, un girone da otto squadre che premierà le prime due classificate con l'accesso al play-off promozione. Il primo avversario da incrociare per Yamaranto è la Gulliver Dertona, che domenica alle 18 sarà in scena al Palace Portestra. Dertona è una delle società che dopo aver raggiunto la Serie A1 sta investendo maggiormente nel settore giovanile, facendo partecipare il proprio gruppo Under-19 eccellenza, fresco di secondo posto nella Next Gen Cup, al campionato di Serie B dove i piemontesi hanno chiuso la prima fase a quota 24 punti. All'energia e alla qualità dell'avversario va aggiunto che Dertona in questa seconda fase partirà da otto punti contro i due dell'AMNBC Servizi, ad ulteriore conferma delle potenzialità di questa squadra. Per tutti i sostenitori di Yamaranto sarà l'occasione per vedere sul parquet del Palace Portestra alcuni dei migliori prospetti giovanili presenti in Italia. Appuntamento è dunque fissato per domenica 3 marzo alle 18.